Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Questo video non sarà per niente editato perchè ho in mente di creare un secondo canale o di utilizzare il mio primo canale che ho creato nel 2013 per portare le cose al di fuori del gaming e portare delle live su Twitch con mio fratello Comunque, volevo dirvi che ho creato un nuovo gruppo di Roblox Allora, questo video non sarà editato perchè Sinceramente, sto avendo idea per nuove idee Sto avendo idea per nuove idee, wow E vabbè, sto avendo due idee quindi non sarà editato Però comunque questo sarà il mio gruppo Per ora c'è solo questa maglia qua Aspettate che carica, questa qua Della Off-White che ho creato io a mano Praticamente tutte le ho create io a mano Tra poco compariranno pure le altre che però non vi spoilero perchè sono sentate nel gruppo Potete vedere queste maglie E niente, entrate in questo gruppo Si chiama il gruppo di Matteo Che il mio nome è Matteo Come lo sapete tutti E vi lascio I link in descrizione Comunque la descrizione non sarà Tanto lunga Lascerò solo i link del gruppo Forse perchè sto avendo da fare E tattaci tutti Bella Ciao Ciao Grazie.